A fine concerto, magari anche sudati, ve lo possiamo dare, l'abbraccio fisico. All'angolo dove c'è Luca Angelici abbiamo i nostri CD, abbiamo Dirty Roads, Merry Go Round, Good Things, No Way Back. Se non avete regalato un uovo, regalate un CD di Miami Groovers che fate il figurone. Grazie. We got the horses, to fly up and down, ain't no stopping. There's nothing to hold, when you walk out the door, are you ready to go? You can raise your hand, and take your place, on this merry go round. You gotta show your face, we got one more day, on this merry go round. We walk here, everybody is gone, I don't know where. You got tickets, you got time on your hands, are you happy? It's time to go home, oh, where we belong, are you ready to go? You can raise your hand, you can raise your hand, and take your place, on this merry go round. You gotta show your face, when we got one more day, on this merry go round. We can sing his word, You can raise your hand, you can raise your hand, and take your place, on this merry go round. You gotta show your face, when we got one more day, on this merry go round. You can raise your hand, on this merry go round. You can raise your hand, on this merry go round. e ti ricorderai di ieri, ti ricorderai dei giorni in salita, di quella in discesa, delle curve fatte senza freni, delle buche improvvise, di quando sei rimasto a piedi di notte senza benzina e di quando invece senza aspettartelo hai trovato qualcuno che ti ha dato un passaggio fino a casa e dopo questo viaggio, dopo questi viaggi quello che avrai nel tuo bagaglio sarà probabilmente solamente una cosa sola, una cosa certa, una cosa che hai imparato, tu saprai che quel viaggio in qualunque modo ti possa farlo, a piedi, sotto la pioggia, sotto il sole, in macchina, in limusine, in treno di terza classe, in aereo, in qualunque modo, dovunque ti porti, quel viaggio non sarà mai stato inutile, nessun giorno, nessuna buca, nessuna caduta sarà stata inutile. Quindi ciò che noi vi abbiamo voluto dire in queste due ore è semplicemente che il viaggio che dure due ore, due giorni, due anni, due vite intera, vale sempre la pena farlo. Buona fortuna a tutti, buona casco a tutti e buonanotte a tutti, guidate, compite e buonanotte. Grazie.